Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati nel canale di MattiVape Oggi non vedrete la mia faccia ma bensì vedrete le mie mani Con tutta questa meraviglia di roba che c'è qua sopra Però ci sarà il mio vapore Ok? Allora oggi andiamo a vedere tutta la serie che è presente in store di Demon Killer Ci sono veramente tante tante cose di questa linea in store E avevo piacere di farvele vedere a tutti quanti In modo che tutta sta bambagia di roba sia disponibile e sia facile da vedere Allora ci sono coil, fili resistivi, notch coil, dei fantastici drip tip C'è di tutto e di più, chi più ne ha più ne metta Visto che cantano, ballano e fanno il rap come piace oggi Che più ne ha più ne ha più ne metta Che più ne ha più ne ha più ne metta Che più ne ha più ne ha più ne metta Che più ne ha più ne ha più ne metta Andiamo a stringere il discorso Perché non faccio un video dove si vede anche la mia faccia Perché semplicemente sarebbe inutile È troppo lontana la camera e non cogliereste i dettagli di ciò che vado a farvi vedere Quindi preferisco evitarvi di vedere la mia brutta faccia Ma farvi vedere i bei prodotti Quindi essenzialmente Partiamo dalle cose più semplici e minor zigocolate Allora questi qua sono i drip tip per il TF V8 E derivati del TF V8 Quindi anche il 12 ha questi attacchi qua Però per chi gli dovesse piacere lo sapete che a me non piace il TF V8 Non serve che lo ripeta tutte le volte, no? C'è una via, serve la mano quella di... Della famiglia Adams Qua sono in resina quindi non scaldano neanche la labbra Sono potentissime e i colori sono anche bellissimi c'è da dire Peccato che viene messo su un TF V8, un 2F V12 Poi dove sono? Ci sono anche i drip tip Ora attacco 5, 110 In svariati colori Noi ne abbiamo tirati fuori solo due Tanto per farvi vedere che ci sono E capire di cosa stavamo parlando Quindi qua troviamo due drip tip Uno un po' più basso e uno un po' più lungo Bah dai Da tiro da guancia O comunque un leggero tank normale Per capirci che può essere il GT2, il Crown e derivati Grazie Dopodiché proseguiamo nelle scatole piccole Troviamo le coil prefatte Qua signori ci sono le Alien V2 Ragazzi Queste qua sono straordinarie Queste nello Wasp Nano spaccano il culo di brutto Poi troviamo le Spaced Clapton Coil Da 0,35 Ohm Che messe in coppia diventano bassissime Dopodiché proseguiamo nelle scatole piccole Due scatole di notch coil Con gli stessi Ohm Ma con vattaggi differenti Quindi chi cerca ancora il notch coil Le trova al Puff Store Pell E in tutti i Puff Store d'Italia Saltiamo in una scatola grande Per restare in argomento notch coil Qua ci sono bensì Tre in una box Ci sono tre tipologie di notch coil Differenti in una scatola sola C'è anche del cotone Oltre a delle brugole e quant'altro Ma questa è aperta E l'apriamo C'è di tutto e di più È fornitissima la scatola Venghino signori Venghino che c'è di tutto e di più qua Poi Quattro Oh la madonna Qua troviamo le Demon Killer 8 in 1 Clapton Coil da 0,85 Mix Twisted Coil da 0,45 Heave Coil da 0,50 Quad Coil da 0,36 Ohm Flat Twisted Coil da 0,36 Ohm Alien Clapton Coil da 0,45 Ohm Per andare ancora sulle Fused Clapton Coil E infine ultimo ma non per importanza le Tiger Coil Quindi una scatola ricchissima di coil per tutti gli Atom di tutte le tipologie E finiamo con la scatola a sorpresa Scatola a sorpresa Ci sono sette Violants Coil in una scatola sola In pratica sette tipologie di queste qua Tutte in una scatola sola Quindi troveremo le Fused, le Alien, le Clapton Troviamo tutto ragazzi Aprile adesso è un casino Però è veramente figa Questa qua è una boxettina per chi ama rigenerare Provare diverse rigenerazioni veramente interessante Mentre poi arriviamo Mentre poi arriviamo alle scatole più interessanti Sono rocchetti di filo E in questo caso abbiamo un Clapton 26x30 Da 15 feet di filo E sono delle Clapton 26x30 All'interno troviamo anche la sorpresina Perché c'è pure del cotone qua dentro Questa qua è una televendita di quelle straordinarie Visto questo possiamo andare anche a spiegare Tutte le tipologie di filo che troviamo Le vado a leggere di conseguenza Ci sono le Clapton Wire 24x30 Clapton Wire 26x30 Twisted Wire da 24 gouge per 2 Twisted Wire da 28 gouge per 2 E Twisted Wire da 32 gouge per 2 Tiger Wire 26 gouge di 0,2 Asterisco 0,8 Che cazzo ne ho io Flat Twisted Wire da 0,2 0,8 X,2 Qua sembra che stiamo giocando la schedina Fused Clapton Wire 28 gouge per 2 Più 32 gouge Clapton Wire 24x32 Clapton 26x32 Twisted 26x2 Twisted 30x2 Quad Wire 28x4 Alien Wire 0,3 0,8 32 Chi capisce di coil ne capisce sicuramente più di me di quello che sto dicendo E per finire le Mix Twisted Wire Che non vi sto neanche a leggere perché sono scritte qui Magari se sono bravo cerco una fotografia di questo e ve lo metto in grafica Detto ciò ragazzi questo è tutto il prodotto che ha capito no Demon Killer Con l'ultima svapata vi saluto vi ringrazio Non prima di avervi ricordato di mettere mi piace Aspetta che facciamo una cosa Con l'ultima Cioè per i saluti preferisco guardarvi nelle palle degli occhi In modo che così vediate che sono sempre io e non mi hanno cambiato per niente nessuno Non c'ho dietro un casino della madonna ma fa lo stesso ragazzi Questa qua era tutta la prodottistica di Demon Killer che trovate qua al Pop Store Pergine Ma anche in tutti i Pop Store d'Italia ovviamente Con l'ultima svapata vi saluto Se non prima di avervi ricordato di mettere mi piace Iscrivervi al canale e attivare le campanelle Perché così sta arrivando il Natale e noi abbiamo attivato le campanelle No Vi ricordo di attivare la campanella per ricevere le notifiche del mio canale Siamo al Pop Store Pergine quindi vi invito anche a seguirlo su Facebook Il Pop Store Pergine Ci sono anche io su Facebook e anche su Instagram Tioccio la mattirei può ovunque e mi trovate Ed ora senza più fiato in corpo Con l'ultima svapata vi saluto Vi ringrazio, vi stimo e mi incoraggio E quindi ciao Ultima, 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 Ultima